Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie per essere qui con noi oggi. Questa è una giornata speciale per la Fondazione Agnelli. Festigiamo infatti i 50 anni di attività. La Fondazione è nata alla fine del 1966, ma ha iniziato ad operare nel 1967 per volontà dell'Avvocato Agnelli, il Presidente di Torimena Fotografia e la Operazione della Sede, insieme a Vittorino Chiusano. Signor Presidente, signora Ministra, autorità, gentili ospiti, grazie per essere stati con noi a festeggiare i 50 anni della Fondazione Agnelli e grazie Mike per la tua amicizia, per essere qui oggi con noi e per la tua testimonianza. Aspetta a me chiudere questa giornata. Grazie a tutti voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.